Se hai più di 40 anni probabilmente conosci bene la frustrazione di vedere i tuoi sforzi vanificati dagli stessi ostacoli ricorrenti. Esistono infatti sette errori cruciali e comuni che molte donne fanno quando cercano di perdere peso dopo i 40 anni. Questi errori ostacolano i loro sforzi impedendo quindi di raggiungere gli obiettivi di salute e forma fisica desiderati. Ma non preoccuparti, nei prossimi sette minuti ti spiegherò come evitarli così da ottenere risultati soddisfacenti e duratori per una forma ottimale. Se tu voglia sentirti più energetica, avere una silhouette snella e slanciata o semplicemente migliorare la tua salute fisica, mentale ed emotiva, questo video ti rivela le giuste strategie per superare quindi le sfide e gli ostacoli che ti impediscono di perdere peso e bruciare quel grasso testardo che non riesci a smaltire. Primo errore. Dieta estrema. Il primo comune e serio errore è impegnarsi in diete estreme. Troppo spesso le donne sopra i 40 anni cadono nella trappola delle diete che promettono risultati rapidi, miracolosi, come diete a bassissimo contenuto calorico e diete drastiche che eliminano addirittura gruppi alimentari. Ma cosa veramente causano queste diete miracolose al tuo metabolismo? Queste diete estreme non sono sostenibili e possono essere quindi dannose per la tua salute generale. Come? Non essendo sostenibili, queste diete causano una riduzione del metabolismo basale, cioè, e ascolta bene, un aumento di peso, difficoltà a perderlo, poca energia, affaticamento, perdita di massa muscolare e squilibrio ormonale, con conseguenti malumori, problemi cognitivi ed emotivi. E nessuna donna desidera ritrovarsi con questi effetti collaterali così devastanti, vero? Secondo errore, mancanza di attività di forza. Il secondo errore è la mancanza di attività di forza nella routine di allenamento o esercizio fisico. Dopo i 40 anni è particolarmente importante mantenere e aumentare la massa muscolare per sostenere il metabolismo, come abbiamo detto, e prevenire la perdita muscolare correlata all'età. L'allenamento di forza aiuta anche a migliorare la densità ossea e a ridurre quindi il rischio di osteoporosi vitale, specialmente per donne che non si nutrono di latte, formaggi, verdure a foglia verde e altro ancora. Calcio. Se puoi andare in palestra, bene. Comunque non c'è bisogno della gym della palestra. Puoi organizzarti in casa con pesi vari ed è una cosa fattibile e pratica. È solo una questione di organizzarti e pianificare bene la tua settimana. terzo errore eccessivo stress. Il terzo errore che molte donne fanno è quello di non valutare bene i loro obiettivi di vita. Se hai problemi di salute, se hai bisogno di perdere peso e ridurre il grasso addominale o viscerale, ma hai anche un mutuo da pagare, una famiglia o hai progettato di sposarti, avere figli o hai figli e allo stesso tempo vuoi goderti la vita con vacanze e con le amiche durante i weekend o altro ancora, allora aspettati un certo livello di stress fisico, mentale ed emotivo, derivante da tutto ciò. Di nuovo, lo stress non concilia bene con la perdita di peso. Se le cose stanno così, forse è utile rivalutare la situazione e rivedere le tue priorità. Voi donne siete delle guerriere nella vita, con tutto quello che vi viene chiesto di fare in famiglia e al lavoro, ma non credere di riuscire a fare tutto senza pagarne le conseguenze. Quindi cerca di semplificarti la vita, la settimana, per non stressarti troppo. Questo ti aiuterà a perseverare nella tua determinazione di dimagrire e migliorare quindi la tua salute, così da poter poi perseguire i tuoi progetti futuri. Di conseguenza dovrai rivalutare e assegnare un ordine di priorità alle tue attività e obiettivi. Stabiliti cosa è assolutamente importante e cosa non lo è. Cosa aiuta e cosa danneggia il tuo obiettivo di perdere peso. Accetta quindi che un po' di sacrificio temporaneo è forse necessario, ma deve comunque essere assolutamente correlato principalmente alla tua salute fisica mentale ed emotiva. Quarto errore sonno inadeguato. Il quarto errore è trascurare il sonno. Il sonno è direttamente influenzato dallo stress accumulato durante il giorno, lo stress fisico mentale ed emotivo appunto. Quando poi si hanno problemi di sonno e quindi una mancata nottata di riposo e ristoro per il corpo e per la mente, il tutto contribuisce negativamente sugli ormoni che regolano l'appetito e il metabolismo, portando a un aumento durante il giorno del desiderio di cibi ad alto contenuto calorico o zuccherino, così chiamati cibi di conforto per intenderci. Quindi ha una maggiore tendenza a conservare il grasso nell'addome, nella pancia quindi, nei fianchi, nelle cosce e nei glutei. Quinto errore Mancanza di idratazione adeguata Il quinto errore è la mancanza di idratazione adeguata. La disidratazione rallenta il metabolismo. Il giusto apporto d'acqua invece sostiene il metabolismo e la perdita di peso. L'acqua è essenziale non solo per l'idratazione ma anche per la termoregolazione che ha a che fare con le calorie e il trasporto di sostanze nutritive varie. Assicurati anche di assumere elettroliti come sodio, cloruro, potassio, magnesio, calcio ed altri. Gli elettroliti sono ioni fondamentali per il funzionamento del sistema nervoso, la contrazione muscolare, l'equilibrio idrico, il pH corporeo e altro. Mentre l'acqua è il solvente universale. Gli elettroliti mantengono l'omeostasi, l'elettrolitica, vitale per la salute cellulare e organica. Entrambi sono importanti per il corretto funzionamento del corpo. Gli elettroliti sono presenti negli alimenti ma se pensi di esserne carente li puoi ordinare su amazon.it Sesto errore. Focalizzazione esclusiva sul cardio. Il sesto errore, sempre se trovi particolarmente difficile, è la focalizzazione esclusiva sul cardio. Mentre l'esercizio aerobico è importante per la salute cardiovascolare, l'allenamento di resistenza è essenziale per aumentare quindi il metabolismo e ottenere una composizione corporea più snella, se è questo che desideri. Integrare sia l'allenamento cardio che quello di forza nella tua routine ti aiuterà ad ottenere migliori risultati. Sempre ammesso che non ci siano coinvolti altri impedimenti nascosti come problemi cardiovascolari o d'altro genere. Come spiegato in questi due video sotto e sopra alla fine con il titolo come fare a ridurre il grasso addominale parte 2 e 3. Di nuovo è una questione di sapersi organizzare bene a riguardo. Settimo errore. Mancata focalizzazione sugli ormoni. Il settimo errore è la mancata focalizzazione dei diversi ormoni che influenzano e possono regolare negativamente il sonno, l'appetito, il metabolismo, l'umore ed altro ancora. Ecco alcuni d'essi. Melatonina, leptina, grelina, insulina, cortisolo, estrogeno, progesterone, seratonina, melatonina ed altri. Ricordati perdere peso dopo i 40 anni richiede un approccio olistico che includa i punti finora menzionati. Evitando questi errori comuni puoi massimizzare i tuoi sforzi e raggiungere quindi i tuoi obiettivi di salute e fitness. Questo video ti spiega qui sopra da dove iniziare. Se invece vuoi saperne di più sugli ormoni e dovresti, visto che sono coinvolti nelle tue funzioni fisiche, mentali, emotive, con il tuo amore giornaliero, il tuo metabolismo, aiutano la tua funzione riproduttiva, aiutano ad affrontare la terza età, allora dai un'occhiata a questo video e poi torna su questo. Grazie a tutti.